Il nuovo arrivato Il nuovo arrivato Il nuovo arrivato Il nostro sangue Sulle loro mani Il nuovo arrivato 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 Ogni giorno la stessa merda Lei sa cosa cerca il sergente Folley Tenga gli occhi aperti Oggi abbiamo un nuovo gruppo al pozzo Le invierò i migliori Benvenuti a premio il grilletto 101 Il nuovo arrivato 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 Ottima cosa Il nuovo arrivato Ottimo, passa di nuovo Il nuovo arrivato Corso, 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 corso con il coltello Corri verso l'uscita, il tempo scorre Io ho detto, c'è un po' di interno Noi siamo la forza militare più potente nella storia dell'umanità, ogni guerra è la nostra guerra, perché quello che succede qui ha conseguenze laggiù, è semplicemente inevitabile, imparare a utilizzare gli strumenti della guerra moderna è ciò che separa la prosperità del vostro popolo dal suo sterminio, non possiamo darvi la libertà, possiamo però insegnarvi come conquistarla e questo amici miei vale molto più di un'intera base di acciaio, avere il bastone più lungo ha la sua importanza, ma conta molto di più l'abilità di chi lo impugna, questo è il tempo degli eroi, il tempo per le leggende, la storia è scritta dai vincitori, ora mettiamoci al lavoro alzati soldato armen, ranger a te strada A a me! A a me! A a me! A a me! I miei presidenziale di Alfa, dove si è occupato dai nemici, basso! E si battaglia al di là del fiume! Agra F1, no, Agra, è ricevuto! Agra F1, no, Agra F1, agra 12 d'arrivo, aspettate! Agra F1, qui David 1-1, 2 F15 in volo, tempo d'arrivo da 1 a 5 minuti, direzione 3 Sierra, Nord-Ovest, con due J-DAM e due ARU, basso! In attesa! L'Evil 1-1, il bersaglio è un edificio residenziale di Alfa, 12 di piani, quadrante, 15, 217-1, l'Urda, il terreno al suo l'opera di giudizio, ricevuto! Ok, nato, a ore 10, bersagli, mostri, vi aliminateli! Lasciò un sul posto, è tirato! Ricevuto, Hunter 2-1, ci sono! Versaglio acquisito! Atto, a ore 10, bersagli, mostri, vi aliminateli! L'Urda, RPC! Hunter 2, il posto è completato! Siamo in movimento, via! Stiamo andando! Forza, andiamo, riporta in culo a bordo! Il baglione è in movimento! Ci muoviamo, forza! Stiamo andando! A bordo! 10 secondi! 10 secondi! Ci siamo! 10 secondi! Qual è l'edificio, signore? Quello alto a ore 1. Sì, senti, qual è l'edificio? Ore 1, quello alto... Ehi, Dave, qual è? Quello a sinistra o quello a destra? Quello a sinistra. Ehi, non è un pericolo ravvicinato per la task force! Da quanto in... Shepard, prega qualcosa del pericolo ravvicinato! Dì! Sì! Sì, così si fa! Ehi, date questo! Il battaglione è in movimento! Ok, città! Ehi, guardate! L'edificio sta crollando! E le visite faginate le visite! Non c'è il sito a sognare! No, ascolta! Non c'è il sito! Non c'è il sito a sognare! Hunter 2 in fuga! Ricevuto, Hunter 2. Hunter 2, attenzione ai civili! Non siamo autorizzati a peccato, a meno che non si sparino per prima! Ceritate i nemici subito! Rimaneci calmi! Vedi qualcosa? Questo posto è un mortale! Pua! Overlord! Hunter 2-1! Siamo oltrepassando alcune larvi e all'interno con l'incavento! Ricevuto, Hunter 2-1! Procedete con cautela! Siamo oltrepassando alcune larvi e all'interno con l'incavento! Pua! Siamo oltrepassando alcune larvi e all'interno con l'incavento! Tre contatti! Balcone a ore 12! Probabilmente miliziani! Sono armati! Negativo! Ci osservano! Scommetto che ci stavano cercando! Non per questo possiamo sparare! Li vedi? Li vedi? Non vedo nulla! Algo! L'incavento è voluto! Prepararsi all'ingaggio! Ci siamo! Chi siamo? Vattene i tuoi! Ecco, mi fanno i soldati! E non lo avvenire! E non lo avvenire! Sono troppi di tirata! L'inniota! Portaci via di qua! Corri! Guarda! Guarda l'escello! Guarda l'aria che va a fuori! E non lo avvenire! Guarda l'ar Triunfo! Guarda l'arriza o nero! Guarda l'arriza! Guarda l'aria che va a ta unterstütti! Guarda l'arriza! Tutto fluchi! Migrati! Snos Port maximi! Non escegliere! Vedo.... Guarda! 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 Siamo in posto ragazzi Si stanno muovendo di sopra Allontanatevi dalle finestre e prendete il controllo dell'ultimo piano Muoverti È uscito all'altra parte Faccia sempre liceo Allontanatevi dalle finestre e prendete il controllo dell'ultimo piano A sinistra Disevuto, secondo piano A sinistra A sinistra Hunter 2-1, Hunter 2-3 Vedo la scuola 2-1, non possiamo combattere Fuoco nemico pesante proveniente dalla scuola Potete aiutarci? Passo Squadra, qui da me, andiamo Resistente 2-3, stiamo arrivando Passo a chiudo Passo a chiudo Funni È uscito a chiudo Spolto Angi Grazie a destra Lire Siamo Hunter 2-3, Hunter 2-1 Siamo nella scuola Sembra Senta penale Rettenuto, Hunter 2-1 Corri Non posso Sto sparando! Non mi fermate! Andiamo a dare una mano a Hunter 2-3! Sto passando dall'Aula Vistoria! Hunter 2-1, qui Hunter 2-3! Grazie per l'aiuto! Ce ne andiamo con l'Ambi di Hunter 3! Passo! Ricevuto! Ricevuto 2-3! Un asus! Power Power Power! Posso ottenerli di me? Un asus! 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 Abbiamo ta- colpire! Bravo Whiskey! cinca-cinque-duve… nove-uno-uno. Credo di averne visto uno correre in quel daugo! ANDIAMO! Via libera! Due in uscita! Hunter 2-1 Actual a Overlord Hunter 2-1 Actual, qui Overlord, fornite informazioni La scuola è sotto controllo, i nemici si stanno ritirando dall'aria Resta solo da passare lo spazio Ha ricevuto Hunter 2-1 Actual, con cautela verso il punto di raccolta Forse ci sono altri nemici nell'aria, passo Ha ricevuto Overlord, grazie per il consiglio Squadra, fate attenzione ai nemici rimasti, andiamo al punto di raccolta Stai cercando di scappare Portate i feriti all'unità di soccorso, fate il mio unicottero, io prenderò il prossimo Signori, ottimo lavoro la conquista della città Soldato Allen, a questo momento prenderai ordine da me Ti aggiornerò sull'elicottero, andiamo Il battaglione è in movimento Allora come sto? Sembri uno dei cattivi, perfetto per la tua missione Makarov ha il premio Makarov non è un premio, è un pazzo assassino, una puttana pronta a darsi a chi offre di più Tu ricorda la tua nuova identità, ti salverà la vita Benvenuto alla 141, il gruppo dei migliori guerrieri del pianeta È un onore signore, quando conoscerò il resto della squadra Sono in missione e stanno recuperando un modulo ACS caduto oltre le linee nemiche Sono a mollo? Direi piuttosto surgelati in questo momento Mausa è finita, non ci andiamo Sta qua e tenimi d'occhio, aspetta che parto Ok, e'accio tieni, signore Ok, e'accio tieni, signore Ok, e'accio tieni, signore Buona fortuna Ci vediamo dall'altra parte Vieni duro, non ballare Coach, controlla il sensore cardiaco Avresti vedermi sul quadrante? Sono il punto blu Qualsiasi contatto non riconosciuto apparirà come un punto bianco Coach, questi idioti non sanno che siamo qua Facciamo un lavoro pulito e con calma Occupati di quello sull'attività Uno Due Tre Bel lavoro Fa' attenzione quando raccogli le armi dei nemici, Roach Usare armi senza silenziatore tende ad attirare l'attenzione Spesso metodo Al tre Uno Due Tre Devo fare tutto io? La tempesta sta montando Oh Dividiamoci. Io terrò d'occhio la situazione con il mirino termico da questo ciglio. Usa la tempesta come copertura per entrare nella base. Sarai come un fantasma in questa tormenta. Le guardie non ti vedranno finché non sarai molto vicino. Occhio al rilevatore di matito cardiaco. Buona fortuna. Niente male. È mio. Ma niente. Ho intercettato le loro comunicazioni. Va a sud-est, piazza il C4 nella stazione di rifornimento. Se le cose si mettono male, passiamo al piano B. A questo ci passo io. Ma niente. Camion in arrivo, non farti vedere. Aspetta. Vedo un po' di movimento sulla pista. Sembrano più di una ventina e vengono verso di te. Ottimo. Ecco la stazione di rifornimento. Ci sei. Sto rilevando altre informazioni sul satellite. Aspetta. Fatto. Fatto. Sembra che il satellite sia nell'hangar più lontano. Ci vediamo là. Muoversi. Chiudo. Muoversi. Mi affronti su tutte le mie. Ho una grossa traccia di calore vicino alla torre, forse sono BMP, eviterei quell'anzoma. Provo ci aspetto dietro gli angari all'angolo sud-est della pista. Andiamo. Va al piano di sopra e cerca il modulo ACS. Proge, la mia copertura è stata compromessa. Non farti scoprire e non sparare. Sono il Maggiore Petrov! Uscite con le mani in alto! Avete cinque secondi! Proge, piano B. Cinque! Quattro! Stai attaccato al muro! Leggeremo il nico come copertura e attraverseremo la pista! No spesso! Proge, seguiti! Andiamo! Averso di me che ti cobrano! 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 Averso di me che te lo smu! Ricopri, vieni qua! Ricci, pensaci tu! Vai,patro! Vai! Ricoprimi! Prova uscire! No, no. Oh, prendi quella motoslitta, andiamocene da qui! Chilo 6-1, la via d'uscita è compromessa, andiamo all'aria di atterraggio secondaria usando mezzi di trasporto nemici, venite là, passo! Bravo 6, qui, chilo 6-1, ricevuto, chiudo! Altri tango, dietro, segui da lì, vai, vai! Non è male, non è male, al di là del mare o sei morto! Vai, vai, vai! Andiamo, andiamo! No! Bravo 6, stiamo per finire il carburante. Qual è il vostro stato? Kiro 6-1, siamo in mezzo al fuoco nemico, ma siamo quasi arrivati. Aspettate! Ancora l'elicottero, andiamo! Bravo 6, vi vediamo. Muovetevi a salire a bordo. Siamo quasi a secco. Ok, hanno la CS, fuori di qui! Grazie a tutti!